Io mi auguro che i sindacati e l'SRR facciano chiarezza perché questa manfrina deve finire, non è possibile leggere a distanza di 48 ore un articolo di giornale in cui i sindacati dicono che grazie a loro e per merito loro si è risolto il problema e quindi 13 persone non verranno licenziate e appena 48 ore dopo sembra che l'accordo sia saltato e a quel punto si attacca di nuovo l'amministrazione comunale di Grigento addirittura chiedendo un'ispezione regionale sulla legittimità del bando che oggi si è andato a prorogare. Allora delle due l'una o il bando è legittimo e quindi non si lavora per favorire il trasferimento delle 13 persone o se si lavora per il trasferimento delle 13 persone si riconosce intrinsecamente la legittimità di quel bando e soprattutto non si può ogni 48 ore cambiare completamente posizione e nel momento della difficoltà ritenere che l'unica soluzione sia appoggiarsi come si dice a Milano in capo muro vascio quando non so che fare perché sono in difficoltà perché non riesco a fare il mio lavoro allora me la prendo col comune di Grigento licenziamenti non ce ne saranno e se ci saranno ci saranno semplicemente perché chi doveva tutelare il posto di lavoro di quelle persone non è stato capace di tutelarlo allora io non sto qui a spiegarvi le ragioni per cui c'è questo balletto perché molto semplicemente non le conosco o perché le conosco del relato perché qualcuno me le racconta ma chiedo e faccio appello ai sindacati all'SRR perché facciano loro una conferenza stampa spiegandoci perché 48 ore prima l'accordo c'è poi di improvviso questo accordo sparisce siccome è così da otto mesi io penso che ci vuole chiarezza debbano questi soggetti debbano chiarezza agli agrigentini e a tutti gli altri prima di tutti ai lavoratori i 13 lavoratori che continuano a stare su questo yo-yo che sale e scende sale e scende da otto mesi con ogni probabilità i sindacati all'SRR avevano scommesso sul fatto che l'amministrazione comunale alla fine cedesse quindi non fosse conseguente hanno perso la scommessa noi lo abbiamo già fatto nel 2015 noi siamo disponibili dialoghiamo con tutti siamo anche morbidi nella trattativa noi abbiamo accettato temporaneamente tenere otto persone in più ma una volta assunta una decisione come quella della variante migliorativa per fare partire la raccolta differenziata non torniamo indietro qualunque cosa accada allora è bene che questo sia chiaro a tutti la si finisca con questa manfrina si provveda immediatamente a trovare la collocazione per queste 13 persone e se non ci si riesce lo si spieghi si racconti alle persone al pubblico per quale ragione non ci si riesce non si provi come si è fatto in questi mesi ad alzare cortine fumogene che evidentemente hanno l'unico scopo di continuare a nascondere la torbidità di un sistema che invece noi vogliamo cristallino la gestione del rifiuto in questa provincia deve essere un sistema trasparente indellegibile, un sistema in cui tutti sanno come funziona perché non è possibile continuare ancora oggi a giocare con delle liste in cui ci sono nomi e cognomi che spariscono poi vengono aggiunti prima c'erano 11 disponibilità poi ce n'erano 14 no, un giorno arrivano e sono 7 allora purtroppo non siamo noi che possiamo fare chiarezza noi l'abbiamo fatta assumendo una decisione adesso tocca ad altri fare chiarezza e io faccio appello a che facciano chiarezza a che spieghino a tutti voi a tutti noi, i cittadini per quale motivo si continua a tenere 13 persone su questo yo-yo che sale e scende in continuazione una domanda su Fontanelle oggi c'è un articolo pubblicato una situazione a Fontanelle abbastanza critica con erba alta insomma un grave pericolo ci potrà essere incendi insomma cosa pensate di fare effettivamente Assessore? allora questo così come tantissime altre segnalazioni noi siamo sommersi dalle segnalazioni sono frutto di un sistema di gestione del tutto inefficiente che è proprio quello che stiamo cercando di cambiare il punto di partenza è la variante che abbiamo sottoscritto è chiaro che a partire dal periodo subito successivo alle ferie ci dovremo occupare in modo molto molto incisivo dello spazzamento e dello scerbamento che non potrà mai più essere gestito come è stato gestito fino ad oggi per quanto riguarda invece le aree in cui esistono terreni privati in stato diciamo di abbandono abbiamo come si fa ogni anno fatto ordinanze e anche elevato sanzioni perché comunque un privato che ha un terreno incolto lo deve tenere pulito proprio per evitare il propagarsi di incendi come è avvenuto in questa provincia in questi giorni per quanto riguarda invece le aree pubbliche abbiamo finalmente qualche settimana fa sottoscritto la convenzione lungamente attesa con la forestale per poter finalmente avere un'efficiente gestione del verde l'idea che vi abbiamo già descritto ma che torno a descrivervi è quella di utilizzare gli scarsissimi fondi del nostro bilancio semplicemente per in oli a caldo per esempio acquistare la benzina o affittare i cestelli e invece sfruttare la mano d'opera gratuita della forestale per le attività di pulizia e potatura dei fondi del comune